dall'ultimo esorcista di Don Gabriele Amort, capitolo V, preti, suore e semplici fedeli, in mano al demore. Forgisella, il nome è volutamente inventato, è una religiosa molto devota. Nel suo ordine religioso è stimata da tutti. Prega tantissimo, non manca mai ai suoi doveri, quanto affervore è senz'altro tra le prime del suo ordine. Eppure da un giorno all'altro inizia ad avere atteggiamenti inspiegabili. Quando entra in chiesa si sente male, le manca l'aria tanto che deve uscire a rifugiarsi nella propria stanza. Nel giro di poco tempo non riesce più a partecipare ad alcun momento di preghiera. I suoi superiori pensano di concedere le qualche settimana di riposo. Forse è soltanto stanica, pensa. Forse ha semplicemente bisogno di ritemprarsi fisicamente. Passano i giorni e le sue condizioni non migliorano. Anzi, ora tutto ciò che ricorda il sacro ne infastidisce. Se vede un prete deve scappare per non gridare, urlare e quindi aggredirlo. La medesima cosa le capita quando incrocia le sue consorrelle. La situazione è ormai divenuta insostente. Così un giorno decidono di chiamarmi. Mi chiedono se posso ricevere la sola. A consegno. Quando la porta della mia stanza si apre, mi trovo davanti ai tre sole. La posseduta è in mezzo. Gracile, magra, un viso angelico. E faccio accomodare tutte e tre e chiedo loro di spiegarmi bene di quali disturbi soffre la sua gisella. È lei a prendere la parola. Padre, sto male. Quando entro in chiesa mi gira la testa e una forza che non so spiegare dentro di me mi dice scappa, vai via. Per sentirmi meglio devo uscire. Mi rifugio nella mia stanza. L'unico posto che riesco a prendere. Qui ho tolto le croci, le immagini della Madonna, le icone sacre. Anche libri che parlano di Gesù dei Santi. Non so perché ma la loro presenza mi inquieta. Ho paura. Quando vedo un prete che sento che una forte rabbia si impossessa di me. Anche ora che lei è qui davanti a me. Capisco che devo agire. Indosso in fretta la stola. Apro il rituale e comincio a pregare. Bastano pochi istanti perché l'esorcismo provo un effetto tiro in pelle. Le due sorelle che accompagnano la sorgisella arretrono di qualche passo. Sembrano impreparate. Non hanno mai visto la sua insorella loro in queste condizioni. Che non sanno che fare. Sua insorella è diventata un serpente. Striscia sui gomiti e sulle ginocchia con un'agilità non umana. Striscia per tutta la stanza. Passa sotto le gambe delle consorelle. Sotto la scrivania e le sedie. Si infila sotto il letto ritmicamente e tira fuori la testa. Prima da una sponda, poi dall'altra. È in grande agitazione. Non si ferma mai. Solo la mia tunica non osa avvicinarsi. Striscia velocissima. Mi striscia intorno senza toccare. Procedo con l'esorcismo ma capisco in poco tempo che è opportuno smettere. La bocca risuora. Gisela si sta riempendo di bala. Ustredenti come un felino in procinto di uccidere la soprena. Tira fuori la lingua con un serpente che vuole sputare veleno e sputa in effetti chiodi, viti, forbici, oggetti di ferro di varie dimensioni. Sputa e ricomincia a strisciare. Appena terminato l'esorcismo si riempisce la ritorna in sé e si alza e dice Cosa è successo? Stavi strisciando come un serpente. Le spiegano. Io tu non me ne sono accorta e non potevi accorgertemi non eri in te. Una forza non tua ti ha spinto una forza che devi in tutti i modi cercare di scacciare da te. Torna da me almeno una volta alla settimana è l'unica possibilità che hai di risolvere questa difficile situazione. le due consorelle si guardano e non sanno che dire. Prendono il braccio sorgisella ed escono fuori con lei. Rimasto solo mi chiedo ma com'è possibile che il diavolo sia entrato in una persona consacrata a Dio? Ricordo gli insegnamenti di Padre Candido inutile chiedersi il perché il male c'è è un dato di fatto o ha combattuto non va a spiegare. La settimana successiva all'appuntamento è fissato nel primo pomeriggio di un giorno feriale. Puntuale sento fuori della porta a pomeriggio passi sono le tre suore. Sorgisella sembra invecchiata di parecchi anni non la riconosco più. Capisco che ha avuto una settimana difficile il diavolo deve averla scossa parecchio mi guarda torna. Credo che il diavolo compresa l'intenzione della suora di sottoporsi ai esorcismi abbia deciso di scombo con Gerlano. Ma non le faccio alcuna domanda la forza malefica dentro l'idea ha già capito con chi ora ha a che fare devo iniziare immediatamente. Non ricordarti signore delle colpe nostre o dei nostri genitori non punirci per i nostri peccati Padre nostro che non ci indurre in tentazione ma libera cita al mare. Un serpente inizia a strisciare senatamente per tutta la stanza. Chi sei? Domanda. Il serpente lo smette di strisciare si dita ma non risponde. Nel nome di Gesù Cristo dimmi chi sei. I gomi di le ginocchia della sua la sfregano sul pavimento nulla sembra poterla fermare. Adesso parla una tarantola che avanza a piccoli o velocissimi passi. Si ferma solo ogni tanto giungolando con la testa o la destra o la sinistra per poi ripartire all'impazzare. Sto parlando con te grido il tono della mia voce provoca una reazione finalmente di colpo la sua la smette di strisciare per terra si ferma gira la testa verso di me mantenendo il resto del corpo completamente in modo con un balzo si scaraventa addosso a me ho la prontezza di mostrarle il crocifisso che tengo in una delle mani è una mossa provvidenziale mi sbatte contro con la faccia e arretra come scossa da una contropossa che non si aspettava di farlo rimane struttita per qualche istante il sibilo diviene ora un lamento rauco lungo pronunciato per diversi minuti senza mai prendere fiato adesso striscia per terra con meno agilità non osa più guardarmi a tratti la sento quasi sospirare non mi faccio impietosire chi sei tu che osi stare nel corpo di questa figlia di Dio parla dimmi chi sei il serpente riprende vigore e striscia sinuoso ancora per tutta la stanza le due suore che l'hanno accompagnata arretano fino al muro sono impietrite dico loro di recitare rosario e di non fare altro mi obbediscono scellerato che osi importunare questa figlia di Dio non lo sai che Gesù Cristo ti ha vinto per sempre è inutile che cerchi di resistere vattene torna nel tuo inferno e non tornare in me più non ho nessuna risposta e nessuna risposta nelle settimane successive questo diavolo è un osso durissimo è sempre così del resto quando un nemaro si impossesse di un religioso vende caro la pette non è facile per lui riuscire a possedere un prete o una sola per questo fa di tutto per non andarsene una volta che è riuscito nel suo intento in questo caso la sua tattica è semplice non parla non mi dice chi è si vede che c'è ma sta zitto è il suo goffo ma in parte efficace tentativo di celarsi e poi c'è l'altro tentativo quello di spaventarmi facendo vomitare a sorgisella oggetti di variotipo di dimensione in pochi istanti la sua la sua la materializza sulla porta della lingua forbici tiodi pezzi di vetro disputa per terra ai miei piedi li raccolgo li metto da parte in una scatola che ancora conservo in un cassetto della mia stanza non hanno nessun valore sono soltanto uno stupido modo con il quale il diavolo ha cercato di impaurirmi senza riuscirci dopo due mesi di esorcismi aspetto a vedere suore per un annesimo appuntamento ma non viene nessuno mi telefono una scatola dice di essere la superiore dell'ordine religiosa con la patina sorgisella caro padre la ringraziamo di tutto quello che ha fatto sorgisella ma riteniamo che sia opportuno interrompere gli esorcismi dice perché? domando non ho risposta dice abbiamo deciso così è una decisione della comunità grazie di tutto a presto da quel giorno non ho più sentito parlare di sorgisella che fine ha fatto è riuscita a liberarsi oppure si trova ancora nelle mani del diavolo perché i superiori di sorgisella hanno deciso di interrompere gli esorcismi difficile rispondere è però una costante spesso i preti e le suore quando il diavolo entra in loro non riescono a liberarsi perché i loro superiori non permettono che si vada fino in fondo con gli esorcismi probabilmente quando gli esorcismi iniziano la furia del diavolo diventa più evidente e anche nelle ore in cui i posseduti si trovano nelle rispettive case anche nelle ore in cui i posseduti si trovano nelle rispettive case spesso gli esorcismi stanno nel diavolo i superiori si impauriscono e preferiscono interrompere non sempre per fortuna accade così ma spesso sì ed è un grave danno per quei religiosi che sono posseduti con padre Francesco invece tutto va in modo diverso ovviamente di questo ci occuperemo la prossima volta spero che nessuno si sia impressionato ora qual è l'insegnamento da trarre da questo episodio no? ecco una cosa che ha detto padre Candido penso che ce la dobbiamo ricordare come è possibile si chiede padre Amor che il diavolo sia entrato in una persona e padre Candido insegnava inutile chiedersi il perché il male c'è è un dato di fatto va combattuto non va spiegato bellissima questa frase sarebbe ottima anche per il titolo di questa meditazione il male va combattuto non spiegato questo è un insegnamento che chiaramente trascende anche tra vanni piano i confini dell'episodio di possessione appunto di azione straordinaria quando noi vediamo qualche male oggettivo soprattutto il male morale che è il peccato molto spesso non gioca e dice come mai come non mai che è successo che non è successo come ho fatto a fare questo non mi riconosco più fa niente il male va combattuto non va spiegato appena appare bisogna combatterlo con i mezzi adeguati credo che questo sia uno dei primi punti importanti di insegnamento e secondo questo è un criterio di discernimento nei casi di possessione veramente molto molto importante tutto quello che ha fatto prima di ricevere gli esorcisti la pressione al sacro togliere i crucifissi immagini della madonna e oggetti di devozione dalla camera questo che cosa si fa capire indirettamente quanto sia importante tenerli importantissimo io vedo pastoralmente parlando tante case perché è visito perché è benedico dopo non c'è quasi niente di questo non c'è il crucifisso non c'è l'immagine della madonna non c'è un bel quadro e a volte oltre a non esserci niente di questo c'è molto altro ora gli oggetti benedetti insieme a tante altre cose sono sacramentali perché il diavolo non ne sopporta la vista quindi è evidente senza pensare che basta averci un crucifisso a casa per tenere lontano il diavolo e per fare una vita evidentemente di lontananza da lui meglio specificare anche se dovrebbe essere ovvio fermo restando che si fa una vita in grazia di Dio questi sono strumenti molto molto importanti di lotta contro il nemico di santificazione fanno parte di quella categoria di mezzi di grazia o di un po' dimenticata che si chiamano i sacramentali perché creda a me giugoro la madonna a me giugoro gli disse portate sempre addosso un oggetto benedetto ma questo oggetto benedetto dovrebbe stare anche nelle nostre case e se volete un consiglio anche nelle nostre macchine automobili bel rosario delle immagini della madonna hai visto quelle medagliette se uno vuole che si attaccano al cuscotto e ovviamente oggetti di questo genere sempre fatti probabilmente bene in direzione settore l'ultimo insegnamento tratta dalla dolente nota della reazione di questa suora dall'oggi al domani basta non si fanno più gli esorcismi perché decisione della domanda che cos'è questo amici miei Elia dice speriamo che si sia liberata difficile se succede questo purtroppo ha vinto lui e attenzione anche questo non vale soltanto nei casi di ossessione straordinaria il diavolo qui ha convinto esercitando le priorità in maniera sbagliata dei superiori è riuscito a non farsi più dare le botte degli esorcismi e quindi è rimasto dove stava ma questo vale anche per la vita di razza ordinaria non si può e non si deve mai abdicare perdere l'uso dei mezzi di razza meno che mai per non curanza o per pigrizia perché altrimenti altro che il regno di Dio come abbiamo sottolineato nella lettura altro che venga il tuo regno sia fatta la tua volontà con il cielo e cose in terra quando si fanno queste cose ahimè quando si trascura completamente la vita di grazia si aprono delle porte al diavolo che mai tenere chiusi aprire le porte al diavolo non vuol dire necessariamente incorrere nella sua azione straordinaria come in questo caso ma beccarsi un sacco di mani e comunque vivere in condizione di soggezione a lui certo una soggezione che può interrompersi in qualunque momento perché basta fare un atto di volontà però attenzione che gli atti di volontà quando il nostro grado di soggezione a lui è forte l'allarme rosso è quando commettiamo un peccato grave siamo moralmente certi che abbiamo perso la grazia quello dell'allarme rosso che ci dà la spia che purtroppo siamo stati vinti al diavolo non bisogna mai dargli la vinta mai per nessun motivo anche perché San Pietro stesso scrisse uno è schiavo di colui che era vinto se si abdica dal combattere il male sia nella forma straordinaria che nella forma ordinaria il male vince ma se lo si combatte il male non vince facciamo l'esempio di un uomo chiaramente costituito con il ministero di esorcismo di esorcista questo peraltro si lascia facilmente capire che erano persone che andavano da fuori e quindi non non c'è stata sicuramente in quel contesto una una liberazione è chiaro che Dio stiva anche dritto sulle sulle dighe storte chi lo sa cosa sia successo però al diavolo non bisogna darla vinta non sappiamo spiegare quello che fa non fa niente basta che combattiamo su tutti i fronti ogni sua insinuazione ogni sua tentazione ogni sua malia ogni sua stupidaggine non fa niente non fa niente non fa niente Grazie.